Abbiamo bisogno di che cosa? Abbiamo bisogno di una stabilità finanziaria che si fondi sui cosiddetti euro bond? Due, che ci sia l'emissione di project bond, cioè di buoni europei per finanziare una parte dei programmi di investimento. Ho ri-insistito, l'avevo già fatto tante volte in passato, sulla emissione di euro bond, trovando in questo il sostegno di diversi stati membri. L'unica modo per investire sul nostro problema è quello degli euro bond. Andiamo lì a dire, va bene, dato che si basa sulla solidarietà, facciamola la solidarietà, facciamo gli euro bond, significa mettere i debiti di tutti e spartirceli insieme, spartirceli insieme. Si chiama solidarietà, sì o no? Quando uno è in difficoltà. E allora andiamo a vedere se accetta.